Un grandissimo campionato in ottica futura per la nazionale, sono ben fiducioso perché ho visto i ragazzi veramente correre molto forte. Era da tanto tempo che non mi capitava vedere un bel campionato di questo genere, perciò speriamo bene e incrociamo le dita per i prossimi eventi. Allora io direi che l'evento è riuscito al 100%, sono stati presenti quasi 500 atleti provenienti da tutte le regioni d'Italia con 85 società iscritte ed è un evento molto importante perché fa da apripista per i campionati mondiali che si terranno a settembre in Italia, anzi precisamente due tappe a Pescara.